Focus parte superiore, 12 minuti di lavoro con i pesetti per rinforzare braccia, spalle, petto e schiena. Svolgeremo workout con esercizi in piedi e a terra sul tappetino. Iniziamo! Ok, iniziamo! Circonduzione in avanti, senso orario, iniziamo con la respirazione, naso, bocca, scaldiamo tutta la parte alta e poi tutta la parte bassa prima di iniziare questo No! Circonduzione spalle dietro, movimento anti-orario, allarghiamo bene dietro, rafforziamo bene tutta la parte alta, attiviamo, scaldiamo bene le spalle, le braccia, ancora 5, 4, 3, 2, 1, distensione braccia in avanti, vai! Scaldiamo bene anche le braccia, bicipite, tricipite, rispiro, naso, bocca, naso, bocca, ancora, 3, 2, 1, mobilizzazione della colonna, vai! In arco e in curvo, in arco e in curvo, vai! Respiro, attiviamo tutta la schiena, vai! 3, 2, 1, cambio, spinte dietro, due spinte e cambio, due spinte e cambio, scaldiamo tutta la parte alta, testa dritta, respirazione attiva, 3, 2, 1, allarghiamo le gambe, torsione del tronco, vai! Torsione a destra e a sinistra, attiviamo il core, piano piano, movimento senza forzare, scaldiamo bene nel corpo, tutto il corpo, 3, 2, 1, prendiamo i pesetti, iniziamo subito con le alzate laterale, gomito 90, 3, 2, 1, isometria, quindi faccio un blocco e scendo piano, vai! Blocco e scendo piano, mantengo il ritmo e respiro, blocco e scendo piano, vai! Ancora, blocco e scendo piano, aperture, isometria e scendo, attiviamo al massimo le spalle, vai! 3, 2, 1, bicipiti frontali, avvicino i pesetti alle spalle, uno dietro l'altro, gambe larghezze delle spalle, testa dritta, addome contratto, distendo bene le braccia e porto il peso verso le spalle, vai! Ancora, non mi fermo, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci mettiamo in posizione di rematore, piego leggermente le gambe, guardo in avanti, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Rematore, guardo in avanti, tiro verso di me, mantengo l'addome in blocco, lavoro solo sulle braccia, attiviamo la schiena e il dorso, ancora, non mi fermo, mantengo il ritmo, vai! 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 e respiro, 3, 2, 1, recupero, prendiamo il tappetino, lo avviciniamo, schiena a terra, apertura con rotazione, 3, 2, 1, vai! Rotazione e chiudo, rotazione e chiudo, vai! e respiro, e respiro, mantengo il ritmo, non mi fermo, controllo il movimento, vai! rotazione e chiudo, rotazione e chiudo, vai! e respiro, e respiro, vai! 3, 2, 1, ci prepariamo per le croci, sempre schiena aderente a terra, 3, 2, 1, vai! apro, apro e chiudo, inspiro, respiro, attiviamo il vettorale, le braccia, addome contratto, schiena bene aderente a terra, testa dritta, vai! Ancora, respiro, vai! 3, 2, 1, ci giriamo! prossimo esercizio, push up con il ginocchio a terra, parto da giù, 3, 2, 1, vai! addome contratto, testa in avanti, scendo e salgo, prendo aria giù, butto fuori l'aria su, vai! addome contratto, non inarco la schiena, mantengo il ritmo, scendo e salgo, scendo e salgo, vai! ancora, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo ancora schiena a terra, prendiamo i pesetti, tricipiti da terra, schiena ben aderente, 3, 2, 1, vai! blocco i gomiti, scendo e salgo, scendo, blocco e distendo, mantengo il ritmo, respiro, testa dritta, gambe in sicurezza, addome contratto, attiviamo i tricipiti, vai! ancora, respiro, non mi fermo, 3, 2, 1, recupero attivo, ci alziamo i piedi, teniamo i pesetti, bicipiti, più spinte in alto, ci mettiamo in posizione, 3, 2, 1, vai! giro e spinte, scendo, bicipite, vai! e salgo, giro, ancora, respiro, non mi fermo, testa dritta, piego leggermente le gambe, vai! utilizziamo un pesetto che ci permette di fare gli esercizi curando la tecnica, vai! ancora, 3, 2, 1, recupero attivo, mano in appoggio sul gomito per il tricipite su un braccio, ci mettiamo in posizione, respiro, mano in avanti e l'altra mano in appoggio, 5, 4, 3, 2, 1, vai! e distendo, distendo, mantengo il ritmo, vai! ancora, distendo completamente il braccio, attiviamo il tricipite, 3, 2, 1, vai! e parto subito, vai! e allungo, allungo, mano frontale in appoggio, distendo completamente, attiviamo il tricipite, 3, 2, 1, recupero attivo, prendiamo l'altro pesetto, picipite e spinta in alto, posizione, 3, 2, 1, vai! salgo e ritorno, separo bene i due movimenti, curo la tecnica, non serve la velocità, ma la tecnica, vai! attiviamo il tricipite e spalle, ancora, giro e spinta, chiudo in avanti, giro, spinta, ancora, 3, 2, 1, recupero attivo, ritorniamo sul tappetino, schiena a terra, apertura con protazione, 3, 2, 1, vai! rotazione e chiudo, rotazione e chiudo, respira, vamos! ancora, apro e chiudo, curo la tecnica dell'esercizio, lavora unisono con entrambe le braccia, vai! respirazione, testa dritta, addome contratto, controlla bene il movimento, respira, rotazione e chiudo, ancora, 3, 2, 1, recupero, 5, 4, 3, 2, 1, vai! butto fuori e in arco, butto fuori e in arco, respirazione, ancora, vai! in arco e in curvo, 3, 2, 1, stretching, spalla sinistra, braccio sinistro in avanti, con il destro, vado a spingere verso di me, piano, lentamente, mantengo la posizione e respiro, 3, 2, 1, stretching, spalla destra, sciolgo, allungo, spingo leggermente verso di me, mantengo la posizione, scarico la spalla, respiro, 3, 2, 1, stretching, ora, tricipite sinistro, vai, senza forzare, mano dietro la testa, mantengo la posizione, accompagno con l'altra mano, respiro, testa dritta, 3, 2, 1, lascio, piano piano, dall'altra parte, mano dietro la testa, accompagno, senza forzare, mantengo il movimento, respiro, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, ok, posizione accovacciata, andiamo giù, da questa posizione andiamo in raccolimento, 3, 2, 1, vai, mantengo la posizione, respiro, respiro, respirazione, scarichiamo un po' la schiena, prepariamo il tappetino, per la seduta sui talloni, 3, 2, 1, ci spostiamo sul tappetino, seduta sui talloni, guardo indietro piano piano, scendo, scarico, respiro, respira, risali piano piano, e ci siamo, il tuo allenamento è finito, ci vediamo al prossimo workout, VAMOS! Grazie.